Stante è uscito nel 2005, nel novembre del 2005, è una storia molto strana perché è stato creato, cioè nel senso è stato, sì, il suo concepimento è avvenuto in Puglia, in provincia di Bari, perché la maggior parte dei pezzi sono nati là, è stato partorito a Bologna, dove ci siamo trasferiti dopo due anni dalla nostra formazione, quindi nel 1999, appunto, in provincia di Bari, e poi è stato registrato e quindi è nato di fatto a Napoli, negli studi dei Biska, e quindi di questo triangolo Bari-Bologna-Napoli per noi ha significato molto, in più ci abbiamo messo due anni e mezzo per la registrazione perché nel frattempo il gruppo si scendeva, la prima formazione del mio lavoro si scendeva, e quindi le sessioni sono state portate a termine da me e dal chitarrista, ci siamo venuti improvvisare lui batterista, io bassista, l'AS, c'è stato il mio primo approccio con i sintetizzatori, strumento che adesso ormai utilizziamo come prassi proprio, e quindi è stata una bella sfida, abbiamo anche pensato di chiamarlo Distanti con l'Apostro, proprio per sottolineare questo aspetto dello spazio e del tempo, infatti è un disco che li sente molto, sia di questi viaggi, di questo viaggiare continuo, sia proprio del passare del tempo, perché comunque ci sono tracce, che sono brani che sono nati sei anni fa e hanno visto la luce solamente nel 2005.